Stretti al collo e alla gola, pugni, trascinamenti sul pavimento dopo averla afferrata per i capelli. Sono solo alcune delle vessazioni subite da una donna nei confronti del marito. Per questo è scattata un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale dai carabinieri di Lattarico nei riguardi dell'uomo originario di Rota Greca, indagato per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. La vicenda trae origine dall'intervento effettuato dai militari dell'arma il giorno della vigilia di Natale, allorquando il figlio minorenne della coppia allertava il 112. La richiesta di aiuto è scattata all'ennesimo episodio di minaccia con l'uso di un coltello da cucina e di lesioni con un copioso sanguinamento inferte dal padre nei confronti della madre e dello stesso figlio, intervenuto in difesa della donna. L'aggressione, a seguito del quale l'uomo fu tratto in arresto in flagranza di reato, era stata innescata da un lieve incidente stradale che la moglie aveva subito nella mattinata, fatto che lo ha portato a colpevolizzarla oltre la misura e a scagliarsi contro di lei, ferendola con un coltello da cucina, nonostante l'approssimarsi delle feste nei cui preparativi la donna era in tenta. Le attività investigative successivamente intraprese dai militari della stazione di Lattarico hanno consentito di ricostruire la difficile e drammatica situazione familiare in cui versava alla moglie dell'arrestato da diversi anni a causa dei comportamenti aggressivi e violenti del marito, il quale era solito picchiarla accompagnando tali comportamenti con minacce di morte.